Siamo con Ernesto Longhi, giornalista in pensione, che è stato sindaco di Valleghentino e sino a qualche mese orsono era ancora consigliere comunale. Ma la prima domanda che facciamo a Ernesto Longhi riguarda i suoi trascorsi calcistici, perché ha giocato nell'Olginatese la squadra di Olginate, dalla famosa maglia bianconera Scacchi, che ha giocato sul campo di via dell'industria alla periferia del grosso comune Brianzolo Lechese. Quanti anni nell'Olginatese Longhi? Circa dieci, perché ho cominciato proprio alla rifondazione quando è ripartita nel 68, grazie al presidente Giampaolo Redaelli, l'Olginatese, e facevamo il CSI per un anno. Poi io sono andato a Calozio perché avevo passato l'età, oltre i 18 anni non potevo giocare, e sono tornato nel 72, per una decina d'anni ho giocato nell'Olginatese. E allora mi ricordo che avevamo le maglie, aveva i bottoni, scacchi bianco e neri, con la camicia, con i bottoni, prima di arrivare alle magliette, come si dice adesso. E in questa squadra dell'Olginatese c'erano diversi giocatori lecchesi. Noi abbiamo intervistato ultimamente Binda, che ha fatto anche il capitano. Sì, sì, mi ricordo Binda, ma anche il chirurgo Pierluigi Carzaniga, oppure Sottocornola, perché c'era la Stella Azzurra, che era una squadra di terza categoria, poi si era sciolta e anche il Dario Maitre era venuto a Olginate per finire la carriera. Come invece sindaco, sei stato sindaco per un mandato, sindaco di Valerio Ventino? A due mandati? Sì, dal 2004 al 2014. Poi allora non si poteva più fare il terzo, ma comunque non l'avrei fatto per raggiunti i limiti di età. Quest'anno, altra domanda, ricorre il quarantesimo di un singolare circolo chiamato a Valerio Ventino la Cade il Diavolo. Perché questo nome così singolare, la Casa del Diavolo, che eredita il vecchio circolone di tradizioni popolari democratiche che era nato nel dopoguerra con la liberazione. Perché Cade il Diavolo? Ecco, appunto, alla fine della guerra un artigiano aveva donato alla cooperativa dei lavoratori sorta in quel momento lì in via Kennedy, allora si chiamava Regulè perché c'era un querceto lì vicino. Questo stabile, diciamo, gli iscritti al PC sindacato, un po' i volontari, si erano messi a lavorare, a ristrutturarlo. E allora non è che c'era il sabato libero, per cui fino al sabato pomeriggio lavoravano, domenica mattina invece si trovavano per ristrutturare e mettere in piedi. E quindi probabilmente saltavano la messa. E Don Paolo Sala, che era il parroco di allora, ha detto «Piuttosto che veniva messo, perché faceva in dialetto anche le prediche, piuttosto che veniva messo, io vado giù a lavorare là, ma chi lo ha là, è la Cade il Diavolo». E allora, quando poi, 40 anni fa, si è ristrutturato, si è ampliato il circolo, gli si è dato questo nome in ricordo, appunto, di quel tempo. Quest'anno sono già state fatte delle celebrazioni, delle manifestazioni, per ricordare i 40 anni, avranno un seguito anche negli ultimi mesi del corrente anno? E noi speriamo di sì, anche perché ci troviamo soprattutto a presentazione di libri, oppure serate anche in compagnia di cene, così adesso che viene la stagione un po' fredda, faremo dentro qualcosa, senz'altro, per tenere viva la tradizione e per rilanciare un po' l'attività dei nostri soci. Comunque la Cade il Diavolo è aperta a tutti? Sì, cioè è un circolo arci per cui è aperta ai soci. Poi le iniziative che facciamo di passatempo così, quelle sono anche aperte a tutti, però noi lo facciamo per i soci, visto che anche dovuto che un circolo arci come un circolo acli così sia aperto per tutta quell'attività di somministrazioni, bevande, eccetera, devono essere soci. E concludiamo riparlando dell'originatese, della maglia bianconera a scacchi, l'augurio di un vecchio giocatore per dieci anni con questa gloriosa casacca alla squadra del giorno d'oggi. Io ho visto l'originatese partire all'inizio con noi di allora protagonista, poi l'ho vista sempre salire, sempre salire, l'augurio è che arrivi più in alto possibile.